C'era la minestra alle erbe, e la spartirono, e c'era il pane secco, e la donna glielo diede tutto a loro. Si sentiva che questa gente, su peimonti e anche nelle pianure, aveva sempre a che fare con le durezze elementari della vita, e pareva che al confronto noi fossimo dei ragazzi viziati che ci mettevamo nei guai, e poi andavamo a farci assistere da loro. E loro ci assistevano.